Ciao! Stiamo andando a Torino, siamo in macchina. Quando ti viene voglia di dolce, no? Abbiamo preso un vino di cioccolato, ovvero un sacco di cioccolato. Siamo in un bar. Mi si vede? Sì. E questo è il bar. Siamo appena usciti da Yum Yum, che è questo negozietto bar. Adesso andremo con questa via. Con questa via che ci porterà poi in via Roma. Guardate le cose cucciolose del Torino. Se siete fan del Torino, questo è il vostro negozio. E niente, guardate anche che bello questo caffè. Molto elegante. Siamo Pinky e questa è la Galleria Subalpina, che è proprio un posto un po' caratteristico di Torino, al chiuso, al coperto. E stranamente non è allestita per Natale. Comunque... Quindi una volta c'era un cinema. E forse c'è ancora. Questa è un'altra caffetteria molto famosa. Molto molto elegante. C'è qualcosa di Natale. Una pianta. E poi tutta la vetrina tutta mignone. Voi sapete quanto li adoro, quindi sono troppo bellini. E qua c'è anche per i fan della Juventus. Quindi tutta la vetrina della Juventus. Ok, sono appena uscita da Piazza Italia. C'è anche mia mamma oggi con me. E lei è una fattita di shopping. Davvero. Cioè, veramente. E quindi sta ancora dando un'occhiata. Io invece lui mi sono stufata. Sono uscita. C'è una panchina in questa via. Che sarebbe via Roma. Ho letto in fondo. Esattamente alla fine del mio dito c'è... Praticamente poi... Piazza San Carlo. Stavo per far uccidere uno in bicicletta. Perché non sono abituata a che... Qua non passano le macchine in pratica. Però passano le biciclette. E poi sono quei meravigliosi cani. Bello. E niente. Qua c'è via Pitalia. I CEM. Forse dovrebbe essere qui dietro di me. Vedete? I CEM. E... E niente. Io ho fatto appunto tutto il giro. E ho comprato due codine. Da Kiko. E... Da Tiger. Però da Tiger ho comprato solo del cibo. Praticamente. E gli Emma Belze. Intanto ho rifatto ieri anche il colore. Super fustia. E come vedete sono di nuovo super colorati. E niente. Ci vediamo dopo. E qui vedete. E qui vediamo. E qui vediamo. E qui vediamo. Grazie a tutti. 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 Dietro c'è il mio alberello. Molto cute. E niente, sono le 18.57, quindi sono le 7 di sera praticamente. E stiamo andando a prendere una pizza, ce la mangeremo tutti quanti. E niente, io spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto. Ho usato anche il cellulare nuovo che mi sono accorta che le riprese le fa meglio ma l'audio si sente peggio. E poi ditemi anche voi se è secondo voi anche così. Quindi, cosa ho preso? Vi faccio anche vedere velocemente quello che ho preso. Ho preso questo cosino qui, che è un set di perline da stirare, da fare l'omino, eccetera, eccetera. E vengono fuori questi due, che sono un pinguino e un set di Natale, molto carini. Poi ho comprato due pochetti di questi biscotti, forse ci fosse per luce sarebbe meglio, ma vabbè. Tipo Oreo, mi piacciono davvero molto da Tiger. E poi ho comprato due ombretti, uno è questo qui. Mi metto più sotto la luce possibile. Ok, così si vede, che è un oro. Forse vi avevo già detto che volevo un ombretto dorato perché non ce l'avevo. Quindi questo è oro. E poi ho preso questo, che è tipo un rosso, qua non si vede proprio nulla, comunque è un rosso tipo sul rame, bronzo. Spero che questo vlog vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un mi piace, quindi un like, commentare. Io rispondo sempre a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!